partiamo dal calcio con max pescatori perché il pronostico è stato sensazionale germania campione del mondo manca parlare ma è quello il bello del di gioco digitale che tu puoi andare sul sito e noi abbiamo live betting quindi io oggi mi sono alzato ho guardato la partita dopo un quarto d'ora si vedeva che non è che la germania non era più forte però il match up tra le due squadre tutti piccolini e veloci contro tutti grossi alti potenti i piccolini e veloci non facciamo vedere la palla alla germania e allora ho scommesso l'altra parte quindi mi sono coperto e quindi effettivamente poi ho vinto purtroppo non potevo dirvelo però tanto di sicuro hanno scommesso contro quello che ho detto nelle ultime giornate è stato un disastro io ho raccontato anche per quanto riguarda le scommesse il mio amico gianni giaroni ha detto se vince l'olanda vado nei guai ma al di là di questo penso che qualcosa da parte avrà messo meglio parlare di poker e di un tavolo televisivo per il quale sei stato scelto sì allora qua c'è tradizione che gli spien il vincitore dell'anno precedente va al tavolo televisivo il primo giorno che lui gioca quindi il day 1 dell'ex vincitore dell'anno scorso del campione in carica va al tavolo televisivo non ero io però purtroppo lo sarà l'anno prossimo spero e cosa è successo che a un certo punto della giornata sono arrivati e hanno rotto il mio tavolo dopo cinque ore ero tra l'altro molto dispiaciuto perché era un tavolo molto bello dove potevo manovrare bene dove sapevo tutti come giocavano ed era molto stretto però stretto week quindi perfetto un tavolo perfetto l'hanno rotto mi fanno vedere la carta vedo espn feature table quindi ero tutto contento perché andavo al tavolo televisivo e infatti lì c'era il campione in carica giocata e poi insomma sono andato lì per un paio d'ore è stato divertente perché comunque è sempre bello essere un tavolo così prestigioso penso ho vinto due braccialetti non mi ha mai messo quel tavolo quindi l'abbiamo già detto appuntamento il prossimo anno al primo giorno però bisogna mettersi avanti con i lavori e come stanno andando le cose nel tuo main event è andato abbastanza bene un giorno che è andato bene perché non ho mai avuto dei grossi problemi l'unico problemino l'ho avuto proprio a tre mani dalla fine quando hanno annunciato tre mani dalla fine avevo una una coppia c'era uno squisi uno che praticamente era molto corto aveva 9 mila quindi un rilancio di uno io chiamo questo qua fa 9 mila il primo passa istantaneamente obiettivamente ho pensato tanta gente è vero che un tavolo televisivo quindi non vuole andare rotta non vuole fare una figuraccia però giocare aggressivi anche paga in un tavolo televisivo ho pensato che potesse avere o una coppia più bassa della mia asso k chiaramente la gioca così è un peccato perché io ho detto non può avere a due assi due k due donne perché avrebbe probabilmente rilanciato ma fatto tipo 3 mila e 8 in quel caso avrei passato tra l'altro perché non mi dà la quota di risquisare e quindi avrei passato tranquillamente invece ha fatto l'in io ho deciso di chiamare due donne aveva incredibile purtroppo è andata così tra l'altro anche fatto set di sei ma lui ha fatto set di donne però va bene avevo qualche out alla fine ma mi raccomando massimo impegno che il prossimo anno il primo giorno sei al tavolo televisivo esatto tutto il primo giorno quindi ho finito con 41.000 va bene ero arrivato a 50 insomma però mi è piaciuto come ho giocato tutto il giorno quindi va bene così